Ciao, vediamo come fare questo delizioso tortino. Ho preparato il cioccolato fondente a pezzettini con il burro. Questo è lo zucchero e poi andrò a sbattere con le due uova, la farina e la vanillina, oppure se avete la bacca di vaniglia, e i contenitori. Bene, ora faccio sciogliere il cioccolato con il burro a bagnomaria e nel frattempo sbatto le due uova, uova freschissime. Sapete che io prendo sempre uova in campagna da amici. In rete trovate diverse ricette, presso a poco simili, io però ho preferito prendere questa, che è di Fable de Sucre, che è quella che mi convinceva di più. Bene, una volta sbattute le uova, fino a renderle un pochino spumose, ma non molto, non più di tanto, aggiungo la farina e sbatto ancora con la frusta, ma se volete anche con quella elettrica. Nel frattempo il cioccolato si sta sciogliendo a bagnomaria. Ok, prendo il cioccolato che è pronto, l'ho sbattuto un pochino con la frusta per far sciogliere bene anche il burro. E' bello caldo, io non lo faccio raffreddare. Voglio mettere le uova, mentre il cioccolato è ancora caldo. Così facciamo anche la pastorizzazione delle uova. E' un po' di tempo che mi sto dedicando un pochino di più ai dolci che invece al pane, ma tranquillo e fra poco riprendo anche uno il pane. Adesso mi è presa la mania dei dolci. Ora verso le uova che ho sbattuto con lo zucchero dentro il cioccolato caldo, oppure viceversa, potete anche versare il cioccolato nelle uova, è la stessa cosa. Ecco qua. Giro bene con la frusta. Poi mi preparo i contenitori, lì in burro, ci metto il burro. Potete anche versare direttamente così, ma io ci ho messo un po' di zucchero di canna, così. Ho spolverizzato. Così si staccheranno bene e rimarrà lo zucchero un po' caramellato. Bene. E adesso riempio i contenitori. Ce ne vengono quattro in questa dose. Non devono essere pienissimi, devono rimanere un pochino sotto del bordo, perché poi in cottura cresceranno, anche se non c'è lievito in questa ricetta. Però cresceranno comunque. Ci siamo quasi. Se volete cuocerli direttamente potete anche farlo, però è bene che siano un pochino al surgelatore. Almeno un'oretta. Io questi ne surgelerò tre e ne vado a cuocere soltanto uno per farvi vedere proprio come viene la cottura, perché il difficile di questo dolce è la cottura. Eccoli qua. Adesso li copro con la pellicola. Allora, il forno l'ho messo a 200, però poi ho abbassato un pochino, 190, anche 180. E ho messo il timer a 13-14 minuti. Eccolo qua, vedete, dopo 10 minuti faccio cuocere ancora un pochino, si sta alzando. Eccolo, vedete, deve formare fuori questa piccola crosticina, però dentro deve rimanere morbido. Vedete il cioccolato che si è attaccato allo stecchino. Questo è il momento giusto per tirarlo fuori. Forse anche un minutino di più dovevo, l'ho tirato prima di 15 minuti io. 15 minuti direi che va bene, almeno con il mio forno. Controllate voi anche a occhio, mi raccomando. Bene, ho girato, avete visto, è uscito facilmente dal contenitore. Sopra fate a piacere zucchero a velo, io ci ho messo, adesso ci metto anche un po' di cacao, così. Ecco qua, lo guarnisco un pochino e poi andiamo subito ad aprirlo finché ancora è caldo. Potete anche mettere dei frutti di bosco vicino, qualsiasi cosa. Adesso questa è un'immagine così, tanto per fare la foto, quello che mi trovavo in casa ho messo. Eccolo qua. Sì, forse un pochettino più cotto, ma poco. Infatti la difficoltà di far venire bene questo cuore morbido è proprio la cottura. Quindi vi consiglio di provarne uno prima di cuocerli tutti, per vedere bene quanti minuti ci vogliono con il vostro forno. E' buonissimo ragazzi, veramente buono, squisito. Ciao, grazie della visione, ci vediamo al prossimo video. Ciao. Grazie a tutti.